Per questo avete capito che se noi dobbiamo intervenire è fondamentale che le protesi abbiano le viti, i fori, perché se la devo svitare in caso di emergenza, devo poterla togliere. C'è una protesi invece, concettualmente, che non si può svitare, ed è questa. La faccio vedere. Questa qui è una protesi che non si può svitare, che ha dei perni che escono dalla gengiva, sui quali poi si incolla la protesi. Concettualmente questo non è il protocollo internazionale, ma è una protesi che viene fatta delle volte quando si vuole risparmiare. Allora si mettono delle componenti qua, che non sono i multi unit abatment, quella connessione che vi ho passato prima, ma sono dei perni dritti, sui quali poi si incolla la protesi. E la protesi vedrete che non ha i fori. Ok, passatela anche questa e vedrete che questi perni sono diversi da quello che avete passato tra di voi poco fa. Quella è una connessione che si può svitare, questi no, sono delle connessioni che vanno poi immerse all'interno della protesi. Fare le protesi in questa maniera, ok, è truffa. Perché se io metto dei perni come questi, sui quali incollo le protesi, non posso più intervenire, in caso di problemi. E questi perni si possono allentare. Se si allentano ho la protesi che balla, ma non posso staccarla. E se io provo a tirarla col martelletto, c'è il rischio che si rompe, si spezza la vite dentro all'impianto. E l'impianto va carotato via. Quello ha causato più un grosso danno. Bisogna mettere i multi unit abatment, che sono questi. Il protocollo internazionale, che è appunto il protocollo Malou, che è stato inventato 24 anni fa ormai, prevedeva l'utilizzo di questi snodi qua. Perché era intelligente, aveva capito che questi tipi di lavori che non sono niente di naturale, bisogna poter prevenire i problemi grossi andandoli a svitare. Poi ci sono anche altri motivi per cui sono stati introdotti. Però diciamo che questi tipi di strumenti di connessioni hanno rivoluzionato il settore, perché è stato possibile risolvere con delle protesi, con pochi impianti, soluzioni complesse. E lui aveva iniziato mettendo i denti ai poveri. Ok, lui aveva i pazienti poveri che non potevano mangiare con la dentiera, ha detto ok, non mettiamo 28 impianti, ne mettiamo 4, 4, almeno fissiamo queste dentiere. Però poi fissandole si era accorto che c'erano molti problemi e doveva rintervenire. Ok, ci serve svitarle queste, non incollarle. Poi si era accorto che mettendo in condizioni scarse di osso gli impianti inclinati per evitare le zone dove non c'è osso, serviva uno snodo per pareggiare i conti, se no c'erano gli impianti sghembi e non entravano le protesi sopra.